Oh, guarda sto video, guarda sto video Che? Guarda sto video Prova a non ridere Questo è Tea Time Benvenuti in un nuovo episodio, questo è Tea Time Io sono Nick e io sono Fabio E siamo qui oggi per provare a ridere nella prova a non ridere challenge Via con il video Ah, buono dai, qua sono io che sto cucinando E iniziamo benissimo Allora Che figo è Ah, però sono bravi, questo è arrivato primo comunque Ma un coniglio Questo succede sempre a Milano Quando prendi No, guarda il capretto Quella Buonasera signorina Che sto facendo? Eeeh La scimmia Oh, il cuo Oh, il cuo Oh, il cuo Ah, le giostre Io e te alle giostre Io e te Lo sta facendo questo? Spara qualcosa Ah, grande Ah, grande Vabbè dai, non è male, adesso basta che si lascia andare No, no, dall'altra parte No, dall'altra Dall'altra parte Eeeh Eeeh Vabbè non abbiamo visto niente Eeeh Mi sembra non ride più tanto come prima Signore Metro per Milano Questa frena la metro e lui Ah no Ah no, proprio così Mi sei svegliato Buongiorno Si No, niente Biglietto prego Questo cosa gli può succedere No, no, no Ah no, 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 no E adesso toglierla Nooo Hahahaha Nooo Puri Ha spaccato la sedia Ah, questo lo voglio proprio vedere in slow motion così poi rende ancora più il bicchiere guarda quello dietro vi lasciamo soli per un weekend questo è il mio cane potrebbe farlo una cosa del genere no il coccodrillo io questo lo vedo molto male già che gli tiene no questo si è famoso no non ho riuscito bello bravo potrebbe fare un video su youtube è capito edic fail proprio cos'è sta cosa no se qua cade qualche ristruccio no ah ok no non sapremo come finisce proprio ma secondo me non sono molto bravi a non ridere però è divertentissimo la fine ha vinto comune che schifo oh 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 Quindi il fatto di non ridere A questa challenge non ci è venuto Molto bene L'episodio finisce qui Qui da Tea Time è tutto Io sono Nick e io sono Fabio Alla prossima Ciao No è il fatto di come uno può arrivare anche solo All'idea Cioè l'idea e lo scherzo tra gli amici